Ciao a tutti, in questo momento mi trovo a Oberhausen in Germania, sono ancora in tour con i Queen Mania e presto avremo anche una data in Francia, è la prima volta che ci sono il 16 di aprile, vi metto tutte le date in sovraimpressione. Vi ricordo anche che come collaboratore di Drum Club su ogni numero io scrivo un articolo riguardante batteristi del passato e del presente, su questo numero prossimo che uscirà ad aprile ci sarà l'articolo su un batterista che davvero ho stimato molto, lui è scomparso qualche anno fa, primo batterista di Aero Maiden, Life Park. Inoltre vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per la Drum School AMM Music Academy a Bologna in via dell'idraulico 1, vi lascio i contatti in sovraimpressione. Da quest'anno c'è anche una grossa novità, noi saremo Centro Ufficiale Roland V Drum, piano 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 vi darò tutti i dettagli di questa operazione, comunque Roland è in collaborazione con noi per aver creato un importante programma, un tutor, che funziona attraverso il PC collegando la batteria elettronica e noi abbiamo creato un metodo per poter interagire. Questo metodo è soprattutto indicato per chi inizia a suonare la batteria, è veramente uno strumento prezioso, utile e anche semplice da utilizzare. Con questo vi saluto, vi invito a visitare il mio canale YouTube, la mia pagina Facebook dove rispondo personalmente, il mio sito, sempre aggiornato con tutte le novità e vi lascio qui qualche video delle mie recenti avventure live. Spero vi faccia sempre piacere ricevere la mia newsletter, vi auguro una buona giornata, ciao e vi piace. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti